La città romena di Alba Iulia è stata premiata come città più efficiente del 2014 per il trasporto ecologico delle berci. Il riconoscimento è stato consegnato dall'assessore del comune di Lucca Francesca Pierotti nel corso della conferenza internazionale di città logica tenutasi alla Cappella Guinigi. Per il secondo anno l'associazione città logica ha riunito a Lucca i maggiori esperti di smart city, mobilità sostenibile e innovazione tecnologica applicata appunto al trasporto urbano delle merci. Grazie.